Ciao Mattia, benvenuto in BFU! Ciao! Come mai sei qua? Volevo provare un po' di brivido! Ah, sei nel posto giusto! Ti abbraccia! Brefica mi ha visto che l'hai fatto, ti ricorderai tutto! La cosa più importante? No, ridere, ridere, sorridere, testa bella alta sempre! E ci andiamo a divertire! Ciao, ci vediamo per aria! Benvenuto a bordo! Vedi, vedi! tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.